bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi un sacco di novità per quello che riguarda le ultime 24 ore di fortnite il vostro video news di ogni giorno è pronto anche oggi e si parla di argomenti davvero molto interessanti il primo ragazzi riguarda il nuovo pack di fortnite crew quello che arriverà a gennaio che è stato anche anticipato nelle ultime ore direttamente in game e che vi voglio approfondire ma parleremo anche di uno degli argomenti più interessanti per quanto riguarda la community ovvero sia il ritorno di fortnite su ios quindi ragazzi tanta tanta roba prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora prima di andare direttamente a parlare del primo argomento di oggi la domandina me la chiedete allora io ve la faccio intanto voglio ringraziarvi per tutti i commenti che lasciate qua sotto anche ieri mi avete risposto in tantissimo tantissimi domandina di oggi a tema natalizio sparata a zero così ma quel è stato il winterfest che hai preferito il winterfest dell'anno scorso o il winterfest di quest'anno devo dire che sono stati entrambi molto molto interessanti quello dell'anno scorso aveva però tutta quell'atmosfera della casa del crackshot che secondo me era davvero molto molto bella quello di quest'anno probabilmente non hanno avuto tempo e quindi dentro così con i regali ma ditemi qual è il vostro preferito qua sotto nei commenti andiamo a parlare del primo argomento di oggi lo stiamo già vedendo ed è un tweet ufficiale direttamente nella pagina di fortnite come vedete ragazzi viene tweetato un cuoricino verde un arco e una corona questo è ovviamente un chiaro riferimento a freccia verde la nuova skin che farà parte del fortnite crew pack del mese di gennaio lo trovate anche direttamente nella sezione notizie in modo da potervela guardare piano piano ma anche nella pagina del sito internet di epic games crew di fortnite presentazione freccia verde dc il pacchetto crew di gennaio sta arrivando l'esperto arciere della dc comics freccia verde si unirà alla crew di fortnite il pacchetto di gennaio vi porta a freccia verde con il suo look più celebre ispirato alla serie tv arrow oltre allo stile al dorso decorativo fare tra tattica e al piccone guantone da box freccia verde arriva solo per i membri della crew di fortnite il primo gennaio alle ore una italiana importante per ottenere il pacchetto crew gennaio potrebbe essere necessario accedere dalla tua piattaforma d'acquisto originaria si sono passati più di 30 giorni da quando effettuato l'ultimo accesso a tale piattaforma come sempre gli iscritti della crew di fortnite riceveranno 1000 vbucks ogni mese e otterranno l'accesso immediato all'attuale pass battaglia se non hai ancora avuto occasione di scoprire il capitolo 2 stagione 5 ora il momento perfetto per gettarti nella mischia il primo mese della crew di fortnite sta per giungere al termine ma c'è ancora tempo per iscriversi e ottenere gli oggetti di dicembre finché sono disponibili la skin galaxia il pacchetto crew gennaio freccia verde accesso al pass battaglia del capitolo 2 stagione 5 e 1000 vbucks quindi ragazzi fateci un pensiero freccia verde davvero molto molto bello avete capito benissimo come ottenerlo nel vostro armadietto e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché è una notizia un pochettino triste che riguarda la possibilità di avere dei nuovi portali in game questa possibilità purtroppo sembra essere scongiurata perché unlikely that we have anymore zero point portals in the files non sembra ci siano dei nuovi portali nei file di gioco both portals so far have had a look file of exactly mille tre bit none of the remaining cryptlog praticamente vuol dire che abbiamo ancora un pacco criptato dall'ultima patch che abbiamo scaricato colgo l'occasione per dirvi che la patch 15.20 arriverà a gennaio ovviamente probabilmente dopo l'epifania secondo me visto che non ha molto senso farla uscire prima e soprattutto il team di epi games è ancora in vacanza quindi molto probabilmente non ci saranno altri portali che esclude purtroppo una possibile è un possibile proseguio della storyline per quello che riguardava o è una delle idee più interessanti appunto quella di proporre nella mappa dei portali che facciano vedere al loro interno altre dimensioni un vero peccato ma magari con la nuova patch ne arriveranno altri quindi mai dire mai e chiudiamo con l'ultimo argomento di oggi perché invidia geforce sta per riportare fortnite sulle piattaforme ios questa è una notizia bomba perché direttamente invidia commenta con queste due righe noi stiamo lavorando con epic per elaborare una versione touch friendly di fortnite per geforce now su ios è una cosa che lascia un pochettino tutti spiazzati perché sappiamo che almeno fino a marzo 2021 in teoria non ci dovrebbero essere degli aggiornamenti in quanto la causa ancora di epic games versus apple andrà a definirsi in tribunale nell'ultima sentenza di marzo quindi o noi non sappiamo qualcosa che loro invece sanno o altrimenti ci stanno semplicemente prendendo in giro io credo proprio di no perché non avrebbe assolutamente senso e tra l'altro a me dispiace perché c'è un sacco di gente che giocava da mobile e che non ha più potuto giocare per questo fatto vi ricordo molto velocemente da quando epic games ha abbassato il prezzo dei v bucks nel nel loro shop interno apple non è stata d'accordo in quanto fortnite non dava più il tot di percentuale degli acquisti ad apple in quanto utilizza il proprio sistema interno di gestione e da lì è partito tutto il casino che ovviamente è arrivato con il termine degli aggiornamenti di fortnite su ios quindi ragazzi incrociamo le dita e speriamo che tornerà io per oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tanto per avere guardato questo video mi raccomando non vi dimenticate di schiacciare il like lasciate un commentino rispondete alla domanda noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao